Si apre oggi presso la sede della Confartigianato la diciannovesima edizione della Scuola per imprenditori. Tema l'intelligenza artificiale, un mondo ancora tutto da scoprire e in questa serie di sei incontri a servizio degli imprenditori verranno analizzate tutte quelle potenzialità e tutti quei servizi che possono servire a essere utilizzati nel mondo dell'impresa e del mercato della Confartigianato. Inizia la diciannovesima edizione della Scuola per imprenditori e in collaborazione con la Camera di commercio delle Marche e l'Università Politecnica di Ancona e l'obiettivo come dicevamo è quello di dare dei supporti, delle informative, di formare imprenditori di oggi e di domani sulle applicazioni, su il plus che può dare, il plus che può dare l'intelligenza artificiale a misura di impresa ovviamente. Durante le lezioni verranno sviluppati tutti i temi a misura di impresa su come quest'ultima possa essere, possa utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale quindi i trend di mercato, l'analisi di marketing, l'analisi dei competitor, quindi tutti quegli strumenti utili a formare gli imprenditori sull'utilizzo, sul miglior utilizzo dell'intelligenza artificiale a misura di impresa ovviamente. Si può ancora iscrivere perché l'attestato finale viene dato dopo con l'80% delle lezioni partecipate e le lezioni saranno sei sull'intero corso sviluppate su tre mesi, ogni due lunedì al mese dalle 18.30 alle 20.30.